Buongiorno a tutti, oggi parliamo di Kinesio Tape, questo rivoluzionario strumento che all'inizio della mia carriera ha cambiato il mondo della fisioterapia. Stiamo parlando di un nastro in cotone senza alcun tipo di farmaco che dà uno stimolo al nostro sistema nervoso centrale, al nostro cervello attraverso un'immunizzazione meccanica che ha solo acuti. Può inibire un muscolo, può far lavorare di più questo muscolo, può drenare, può stabilizzare l'articolazione in base a come viene applicato. È un proseguio da una perduranza dell'attività del fisioterapista all'atleta anche durante e se troppo da giorno. È lavabile quindi ci si può fare la doccia quando lo si applica dal dorso e influenza il gesto anche se la persona non si accorge e quindi ottimo, ottimo lavoro. Al prossimo episodio